Benvenuti nel cuore palpitante di ultimissime tv. Prima di svelarvi gli eventi di oggi, vi chiediamo un piccolo favore. Lasciateci un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al nostro canale. Grazie di cuore. Barbara Palombelli, volto noto del programma giuridico e forum, ha recentemente annunciato al suo pubblico di essere temporaneamente senza voce. A causa di questa sfida, ha scelto di affidare temporaneamente la conduzione del programma a una collega. Nonostante l'afonia, Palombelli è apparsa in studio durante l'ultima puntata di Gforum, trasmessa ieri mattina, confermando il suo impegno verso un programma che continua a coinvolgere diverse generazioni di spettatori. In passato, il ruolo di conduttore è stato ricoperto da figure iconiche come Rita dalla Chiesa e Paola Perego, ma negli ultimi anni è stata Barbara Palombelli a guidare il programma. Tuttavia, a causa della temporanea perdita di voce, ha passato il testimone per un giorno a Giulia Giorgi, una giovane collega che ha gestito la puntata con abilità, portandola a termine con successo. Questo tipo di contrattempo è comune tra coloro che utilizzano intensamente la voce, ma solitamente si risolve in pochi giorni con le cure appropriate. Si prevede quindi che Palombelli potrebbe tornare a condurre normalmente già dalla prossima settimana, riprendendo il suo posto su Gforum e su Mediaset. E voi, cosa ne pensate di questa vicenda? Scrivetelo nei commenti. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati.